Buonasera alla provincia di Pavia Buonasera a tutti All'incrocio fra via Papa Giovanni e Corso Rosselli Proprio a due passi dal comando della polizia locale Il tragico incidente ha visto coinvolto un bambino In sera da sua bici Si stava recando a un impianto sportivo Insieme al fratello di 13 anni anche lui in bicicletta Per cause ancora da accertare L'undicenne è stato travolto dal camion Alcuni passanti che hanno assistito alla scena Hanno subito chiesto l'intervento dei soccorsi Gli operatori sono arrivati subito sul posto Ma non hanno potuto far altro Che constatare il decesso del bambino A causa delle gravi Gravissime ferite riportate Sul posto insieme Al 118 Tutti gli operatori del soccorso Anche i vigili del fuoco La polizia locale con il suo comandante Gianluigi Algeri Sono in corso accertamenti Per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente Di fronte alla tragedia del piccolo Richard Anche il sindaco di Voghera Paola Garlaschelli Ha espresso nel corso della giornata Il cordoglio della città Attraverso i suoi canali social Il sindaco ha scritto Siamo profondamente scossi e addolorati Per la tragedia accaduta questa mattina Esprimiamo alla famiglia della giovane vittima La vicinanza dell'amministrazione comunale di Voghera E della città tutta È difficile fare questo mestiere Nel trovarsi a commentare Oltre che da giornalisti Anche da papà Questo tragico fatto È stato difficile anche questa mattina Trovarsi sul luogo di questo dramma E vedere la mamma Il papà E l'altro fratello Del piccolo Richard Affranti Costernati Increduli Di quello che è accaduto Questa vicenda Deve essere accolta Con il silenzio E con la riflessione Che si deve di fronte a un lutto Ancora più quando La vita spezzata È così giovane Ma dall'altra parte Bisogna anche riflettere Su tanti temi diversi Il tema della sicurezza stradale Sicuramente La dinamica È al vaglio degli inquirenti Dall'altra parte Bisogna anche interrogarsi Se le nostre città Siano o meno A misura di bambino Forse anche Una maggiore presenza Di piste ciclabili Una migliore segnaletica Un presidio Magari Nelle giornate Più Importanti Come potrebbero essere Il sabato e la domenica Quando ci sono Tanti bambini In giro Quando magari C'è anche più traffico Su determinate arterie Avere magari Gli incroci semaforici Principali Presidiati Dagli agenti La polizia locale Sarebbe importante Dall'altra parte Dobbiamo usare Molta attenzione Nello spostarci Sulle strade Molto spesso Siamo distratti Io non voglio dire Che sia Questo il caso Ma Quante volte Capita Trovandosi A passeggiare Da pedoni Vedere L'utilizzo Di cellulari Senza auricolare L'utilizzo Di chat Messaggistiche Mentre si è alla guida Non sarà questo il caso Però la prudenza Non è mai troppa E sicuramente Ci saranno due vite Che non saranno più Quelle di prima Ci sono Le vite dei genitori Del piccolo Richard Che saranno segnate Ci sarà sicuramente La vita anche Del trasportatore Del conducente Di quest'autocisterna Che non sarà più come prima Ma soprattutto Il piccolo Richard Non ci sarà più Dobbiamo tornare anche A Una dinamica Come quella che raccontano I nostri padri E talvolta I nostri nonni Di Rafforzamento Della polizia locale Dei suoi organici Anche in chiave Educativa E preventiva Muoversi Sulle nostre strade Oggi Non è più Come 30 anni fa Bisogna Convivere Con molto più traffico E con molte più paure Rispetto al passato Bisogna essere Consci Dei pericoli Che ci sono Verrebbe anche Da dire Che bisogna usare Caschi E sistemi di protezione Nel muoversi Ma bisogna Dire che Questa è una tragedia Probabilmente Una tragica fatalità Ma bisogna Che queste cose Insegnino A fare di tutto Per prevenire Altri casi del genere Probabilmente Anche a scuola Dovrebbe essere fatta Più educazione stradale Più sensibilizzazione Anche ai bambini Giovanità Agli studenti Delle scuole Bisognerebbe Ribadire Ripetere Fare campagne Di sensibilizzazione Per Far crescere Degli automobilisti Che siano Attenti Attentissimi A quello che fanno Perché Noi non ce ne accorgiamo Ma a volte Per mandare un messaggio Corriamo dei pericoli E quando Correre questi pericoli Può magari Mettere a repentaglio Una vita Dovremmo farci Più Di una domanda Oggi La città Di Voghera Sgomenta Le parole del sindaco Paola Gaschelli Lo testimoniano Speriamo però Che Si faccia Di tutto In tutte le città Della provincia Di Pavia Nessuno esclusa Per evitare Altre disgrazie Del genere Non si dica Soltanto Tragica fatalità Chiediamoci Se potevamo Fare qualcosa Di diverso E se possiamo Fare qualcosa Di meglio Tutti Nella nostra Quotidianità Tutti i giorni Ma anche A livello Istituzionale Se possiamo Sensibilizzare Se possiamo Fare educazione Se possiamo Fare prevenzione Facciamola Senza lesinare Sforzi Oggi però È il giorno In cui Tutti noi Anche la redazione Di Pavia 1 TV E creativamente Editore Si stringono Attorno al dolore Dei genitori Del fratello Del piccolo Richard Degli amici E di tutti i parenti Il cordoglio È tanto E ci auguriamo Davvero Che quello Che è accaduto Possa Insegnare A tutti Qualche cosa Lasciamo A chi dovrà Completare Le indagini Il compito Di appurare L'esatta Dinamica E le responsabilità Certo però Nessuno Si rassegnerà Mai A pensare Che il piccolo Richard È morto A 11 anni A due passi Dal comando Della polizia locale Mentre Voleva soltanto Godere Di una mattina Di divertimento E di gioco Con suo fratello E altri amici Nel campo Di un centro sportivo Della polizia locale Grazie a tutti.